Benvenuti su Meteo Giulianci. Il tempo previsto per domenica 13 di novembre. Ebbene, dapprima bel tempo su tutta l'Italia, ma con nubi in graduale aumento su gran parte del centro nord. E poi dalla sera piogge su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna per l'avanguardia di una perturbazione atlantica. Per quanto riguarda le temperature, vi saranno gelate al mattino nella pianura Padano-Veneta, in particolare sul Piemonte e sulla Lombardia, gelate anche nelle zone interne del centro. E comunque farà freddo per tutta la giornata sulle regioni centrosettenzionali. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.